Se vi proponessero di ridurvi lo stipendio e le ore di lavoro per far assumere forze nuove, accettereste? All'IFO di Reggio Emilia, azienda specializzata nei servizi di formazione, ci hanno pensato su e hanno detto di sì. E così, sacrificando il 5% della busta paga e passando da 40 a 38 ore settimanali, 85 dipendenti della ditta sono riusciti a far avere un contratto a tempo indeterminato a 29 colleghi. Abbiamo individuato questo strumento che esiste dall'84 ma in realtà non è mai stato utilizzato in Italia, che è il contratto di solidarietà espansivo. Tutti conoscono il contratto di solidarietà difensivo che viene utilizzato per difendere dal licenziamento delle persone, l'espansivo invece serve per poter assumere persone in più. Una scelta solidale come se ne vedono poche, ma che non lascia rimpianti a chi l'ha adottata. Io l'ho vissuta dall'inizio in costruzione, quindi non mi ha pesato particolarmente. Ho capito assolutamente la logica, quindi secondo me era una cosa da fare, anzi l'ho vista proprio come una buona possibilità per poter inserire persone nuove, quindi nuove assunzioni e al contempo mantenere gli equilibri dei costi. Per uscire da questi tempi magri, gli imprenditori chiedono allo Stato più incentivi alle assunzioni e un taglio del costo del lavoro. Intanto il contratto di solidarietà espansiva può essere un appiglio per provare a respingere le insidi della crisi, insieme creando uno spirito nuovo. C'è un patto vero, comunque esiste un patto vero, per cui sai chiaramente che se prima davi il 100%, adesso devi dare il 200%, sia per l'azienda che si è esposta, perché si è esposta sia per i colleghi che hanno fatto una rinuncia.